La Carbonara a Napoli sarà buona come quella a Roma? E che non lo stoffa! Mi avete consigliato tutti di andare da Carbonà, quindi eccomi qui, cioè lì nello specchio, eccole qua in tutto il loro splendore. Comprese di pane per la scarpetta finale, da veri intenditori. Partendo dall'odore, ci siamo. E guardate chi mi fa accompagnare, Raffaele, che finora è d'accordo con me. All'aspetto è meravigliosa, pare finta, ma adesso tocca all'assaggio. Per il prezzo che è costata qui a Napoli, varrà la pena? La mia reazione parla da sola, ma sarà d'accordo anche il mio collega? Direi proprio di sì. E' veramente stupito, morbida, cremosa, al punto giusto, anche il guanciale, guarda che simpatico che è. Tutto al punto giusto, piatto più che finito, ma se la meriterà la scarpetta finale? E certo che se la merita, guarda che roba, decisamente la miglior Carbonara mangiata finora fuori da Roma. Posso calorosamente dire che questa Carbonara passa il turno, ma quanto l'abbiamo pagata? Lo scopri seguendomi su Instagram. E tu, dove hai mangiato la miglior Carbonara della tua vita?